Serie A 2024-2025, le squadre del campionato italiano di pallavolo femminile. Andiamo a vedere l'oliviero San Bernardo Cuneo. Dopo la disastrosa stagione dell'anno scorso che ha portato la squadra alla retrocessione, Cuneo decide di cambiare praticamente tutta la rosa, dando addio a quasi tutte le giocatrici che l'anno scorso hanno partecipato al campionato di Serie A1. Dopo l'acquisto quindi del titolo di Serie A1 da Casal Maggiore, Cuneo decide di ripartire da 12 giocatrici, praticamente tutte nuove. Le giocatrici che arriveranno nuove saranno coordinate dal grande allenatore Lorenzo Pintus, che è pronto dopo la stagione di Casal Maggiore a dirigere le nuove sue giocatrici, cercando di conquistare la salvezza che l'anno scorso invece ha sfuggito. Con centrali molto interessanti, tutti italiani da tenere d'occhio, con Tessa Polder e Anna Biel, le più esperte. Molto interessanti saranno gli schiacciatori, tra cui Maria Martinez e l'altra banda americana che arriva dal college. Quindi andiamo a vedere quale sarà la probabile formazione per quanto riguarda Cuneo. Non vediamo l'ora che la Lega Volley Serie A di pallavolo femminile italiano abbia inizio. Io vi invito, se vi è piaciuto il video, ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere tutte le notifiche dei video in uscita.